E buongiorno, 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 buongiorno a tutti, grazie a Juntao per questo mio ventunesimo comple mese, vorrei chiedere anche io una benedizione per il cosa scelga lei, tanto qui siamo disperati, va bene tutto, madonna, tantissimi auguri per tutto allora, per tuttissimo proprio. Aspetta qua che c'è una notifica del modday, che verrà rimandato il modday a martedì, a martedì, 14, poi un po' di appuntamenti adesso da ricordarvi, adesso vi dico. Sec, salve gattone, passo come sempre per un saluto e se mai dovesse capitare per passare di Rovigo, me lo dica che le offre un caffè, va bene, grazie mille, grazie anche a Rider per i 45 mesi e Kev per i 25. Sì, Rolling Master, mattiniero, sono le 9 del mattino, mattiniero mi sembra eccessivo, mattiniero è uno che si alza le 6, tutto a posto bro? Dal sito di Paradox, Tom. Allora, stasera live classica, non so che gioco fare effettivamente stasera, finita la live classica alle 21 parte, non è uno state of play, perché non si chiamerà state of play, quindi si spera, se Dio vuole, che Sony finalmente mi convinca che non ho buttato via i soldi con la mia Playstation 5. Dunque, me lo auguro con tutto il cuore. Detto questo, quindi live normale più quello. Domani mattina 5 ore di WarioWare, a partire dalle 9, come sempre, finiamo all'1, no, alle 2. e... Cosa mi ha dato qua? Madonna. Mi ha dato un copyright su un video vecchissimo, va bene, mi importa. Domenica, domenica ci sarà un cambio di orario, allora, non partiamo alle 9 del mattino, domenica, partiremo alle 10, faremo un 10 mezzogiorno, 10 mezzogiorno e mezzo, adesso vediamo. Perché voglio dormire un po' di più, e questo perché poi dopo, la domenica sera, ci sarà una live di beneficenza, su Sea of Thieves, infatti adesso se andate a vedere su Instagram di Sea of Thieves Italia, ci sono tutti i dettagli, guarda qua, Sea of Thieves Italia, eccolo qui, eccolo qua. Fight Agonist Multiple Sinoris, per la sclerosi multipla, ecco qui, sarà una live di beneficenza, il 12 settembre alle ore 21, ok? Quindi io sarò lì. È una cosa carina, sì, mi avevano avvisato molto tempo prima, purtroppo sono stato un po' incasinato, e non sono riuscito a confermare, perché io speravo a quest'ora di essere nel cambio casa, e no, quindi mi sono un po' incasinato. Quindi, solo per questa domenica, live al mattino regolare, partiamo un po' più tardi, domenica sera si ritorna ai fasti alle 21. Grazie al sommo lievito, bella gattone, sono due come le ore del sonno, che mi mancano, moltiplicate per tre, li si vuole sempre bene, un abbraccio, altrettanto e grazie mille. Ma si è fatto in Italia, è sempre fatto queste iniziative. Ok, quello l'ho detto, quello l'ho detto, lunedì, succedeva qualcosa anche lunedì, ma non me lo ricordo. Martedì ci sarà il Mod Day, il tutto condito dalla conferenza Apple che parte alle 7, io quasi quasi parto alle 7 in live, martedì sera, e poi dopo gioco a qualcosa, finita la conferenza. La conferenza, come al solito, non ve la posso far vedere, e questo è. Grazie a Fra, buongiorno gattone, chiedo una piccola benedizione per il prossimo inizio della magistrale, grazie per tutta la compagnia, ne si vuole sempre bene, altrettanto e grazie mille. Ho il cranio di una mucca? No, si pronuncia algo. No, no, io non so dirti che cosa stai vedendo. Ma seco, saltalo. Nici glitch, 25, come i miei anni, meno 2, in realtà ma non diciamo nessuno, assolutamente. La casa nuova, beh, sappiamo un cazzo. Però mi hai fatto partire live training, quindi rinnovate, rinnovate, rinnovate. Perché il subtember, subarsi, costa di meno. Regalare sub, costa di meno. Meno. Il t-rex abbassato sembra lo scheletro di mucca. Io non so che mucca avete visto in vita vostra. Zero. Ma zero, proprio. Red, però l'ho appena detto. L'ho appena detto. Appena detto. Dai. Eh? Sei bloccato? Ok. Conquistare la Francia? Mi viene dura, mi viene dura. Adesso vediamo, perché ieri, per chi si fosse perso l'ultima mezz'ora, ora di ieri, ci sono state guerre con dentro altre guerre. È stata veramente tosta ieri. Noi siamo usciti con, come si dice, con le ossa un po' rotte. Quindi adesso cercheremo di rifarci. Non sarà semplice. Non sarà semplice perché siamo andati in Francia a dare una mano ai nostri alleati. E mentre eravamo in Francia c'è scoppiata una guerra interna in Scozia. Siamo tornati indietro e ce n'è scoppiata una in Irlanda. È stata tosta, tosta, tosta. Adesso vediamo. Infatti vedete, siamo a meno 242 soldi. Io direi attualmente di star fermi. Cosa cazzo è questo? Sono degli schermi televisivi? Che cazzo è? È un bug? Cosa? Ah, secondo me si è rotto qualcosa. È stato un figo però. Rinnovate, rinnovate, rinnovate ragazzuoli. Ho sete. Non è che ho sete. Mi sto seccando. Non devo bere. Vediamo un po'. Eh no, è rimasto. Che faccio? È peggiorata poi la situazione. Ma è un bug? È una cosa che si conosce. Che cos'è? Sembrano scritte che dovrebbero stare in alto. Se faccio così... No. Ma feature? È rimasto quello più lì che sia un bel grafico. E fin qui, sì. E quindi? È tolto la pausa? È uguale. Ma che sia... Il PC mi sembra eccessivo. Ma la pausa l'abbiamo tolto anche prima. E c'è proprio roba... Sono tipo le ombre fottute. Adesso li vedo anche da qua. E li vedo anche fuori dalla mappa. Non so che cazzo sia. Siamo andando avanti veloce per un po'? Sono morto. Il mio figlio nasce in guerra. Fermo lì. Credo siano le barche. Possibile. Faccio un alto F4. Allora, quando ho chiuso il gioco mi sono rimasti a schermo per un istante quei cose lì. Sono rimasti proprio in un istante. Vediamo se c'è qualche aggiornamento di invidia. Strano però. Strano, strano. Rinnovate per... E' finito. Strano, strano, strano. Eh, se ancora è così riavvio il PC. Scusami, nana. Qui, no problem. Oh, santo cielo! È strano. È molto strano. Cioè, adesso è doppia. Doppio il problema. Ma che succede? Perché? Cazzo, anche... No, no. Aspetta, aspetta, aspetta. Questa stronzata qua me lo fa anche nel secondo monitor, vedo. Oddio, che sia il monitor. Provo a spegnere il monitor. Aspetta. Mi si è greciato tutto di là. Ma non credo sia la mod, Waldron. È proprio una roba... Adesso ha anche il secondo monitor tutto butterato. Ma che cazzo di roba strana. Però è il gioco. Perché se io esco dal gioco... No, mi è rimasto. Adesso ho tutti i puntini sul monitor. Che si è morta la scheda video. No, no. Adesso è tutto... Tutto una merda. No, non è un buon segno. Mi trovi d'accordo. Eh, boh. Provo a riavviare.